mi fate togliere sto limone per piacere aspetta che seggio mi sta misurando ok 32 e 1 è morto è rotto questo non vuole questo non vuole questo le quelli no ma non devi sciogliere perché le scioglie me lo voglio sciogliere vedi poi sudi coi capelli e fa niente qua devo mettere la testa e le gambe così e io tutto sotto la coperta grazie grazie grazie